Vito peso, vito mozzarella What's up Pis3 Family, how about the speaker? I'm growingệt There's a Sunday하는 up and running What... Giving my train 시간 never be good 하면서 drinking and driving and being blocked sono due cose che bisogna fare quando sei che stai a fare oggi è il 28 di Juno e i'm actually going to Doncaster Shopping Center e i'm actually heading towards a movie e ho fatto un plan che i'm going to watch the Curious 9 I am so freaking excited to watch ok, a cup behind me ma non c'è qualcosa di lavoro restricchioni sono stati l'escrizione è stato molto difficile per me ho lavorato per il prossimo vlog e questo è l'escrizione dove io vivi per la prima volta di 1.5 anni quindi è stato proprio l'area quindi i'll show you around i'll show you good places e sicuramente c'è un'escrizione c'è un'escrizione a lote di food quindi stai attuned keep blogging keep checking out psv don't miss out on any of my vlog and to give you guys real nice content cause it's lit every day and we'll go to the beach and we'll go to the beach and we'll do a little bit of a talk so now let's tell you how it is weekend at this time oh ho a phone is coming hello è stato un po' la la l'ambiente il il l'ambiente per le Oh, God! La real-life struggle è questo. Oh, ho, 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 ho! abbiamo finito ora siamo arrivati in 15 minuti ora siamo arrivati in 15 minuti so let's do this phone anche cargine non c'è wallet battery so let's do this oh mask mask bella bollass a 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